Torno Silve Tosi, attuale Assessore alle Finanze del Comune di Vieta. Il mio primo pensiero dal mio insediamento è stato quello di spendere bene i soldi dei cittadini di Vieta e che alla scadenza del mio mandato avrei reso conto dei risultati ottenuti. E oggi sono qui ancora a chiedere la vostra fiducia. I numeri non mentono e quando mi sono insediato ho trovato veramente una situazione difficile. Mi sono trovato con un disavanzo di amministrazione importante e un debito per abitante per 919 euro. Oggi la situazione è completamente cambiata. Abbiamo ridotto il debito per abitante a 707 euro ed un'avanzo di amministrazione di quasi 6 milioni, risorse immediatamente spendibili nel 2024. Di fatto il mio lavoro ha risanato in maniera reale e concreta le casse del Comune di Biella. Per le elezioni del Comune di Biella dell'8 al 9 giugno, barrate il simbolo Lega, scrivete Tosi Bessone in appoggio del candidato sindaco Marzio Olivero.